Un buon pomeriggio e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di politica e andando nel campo del centrodestra perché dopo le polemiche dei giorni scorsi seguite alle dichiarazioni del coordinatore regionale della Lega Giuseppe Bellachioma che aveva detto che la Lega avrebbe corso da sola alle prossime elezioni regionali attaccando Forza Italia prima di un parziale passo indietro. Oggi il coordinatore abruzzese degli azzurri Nazario Pagano auspica un centrodestra che invece sia unito. Il servizio di Paolo Renzetti Pagano, tornata la pace con la Lega? Per quanto ci riguarda non abbiamo mai litigato apparentemente. Noi abbiamo tutta l'intenzione di stare insieme alla Lega, di collaborare con loro, di condividere i programmi, di vincere le prossime elezioni locali, regionali. È una squadra che funziona da molti anni al nord e pensiamo che possa funzionare altrettanto bene nel centro-sud. Il coordinatore regionale della Lega Bellachioma qualche settimana fa aveva detto che la Lega correrà da sola in Abruzzo per le amministrative e poi negli ultimi giorni è stato un po' corretto il tiro. Probabilmente si va verso una nuova reunione del centrodestra. Sì, a me è fatto molto piacere sentire le successive interviste nelle quali il mio collega Bellachioma si è dimostrato invece molto collaborativo e pensa che mi pare di poter percepire che le cose stiano mutando favorevolmente per una coesione all'interno di tutta l'area del centrodestra, compresi di altri soggetti politici che è giusto non dimenticare come Fratelli d'Italia, l'Udc e poi le tante liste civiche che ruotano intorno al nostro mondo, che sono composte da persone che possono essere molto utili per le prossime battaglie elettorali. Il nodo resta quello della scelta del candidato. Sarà un candidato di Forza Italia o della Lega il candidato del centrodestra? Sarà un candidato che sta bene a tutti noi, alla Lega, a Forza Italia, all'Udc, a Fratelli d'Italia e anche alle liste civiche. Dobbiamo trovare condivisione su una figura che non necessariamente deve essere dell'uno o dell'altro partito. Vediamo, cercheremo di fare uno sforzo comune, è importante però parlare anche di una piattaforma programmatica, di cose da fare. Penso che gli abruzzesi guardino non solo agli uomini, sicuramente anche a quelli, e gli uomini o le donne, ma certamente anche alle cose da fare, le cose che noi vogliamo fare. Penso che in questo momento loro non abbiano ancora una classe dirigente formata, perché sono una formazione politica che è cresciuta rapidamente negli ultimi mesi ed è normale che stiano cercando personale politico. Nell'escorsione proprio un post su Facebook dell'onorevole leghista Giuseppe Bellachioma ha scatenato la reazione del senatore abruzzese del Partito Democratico e anche il governatore uscente Luciano D'Alfonso, che ha detto che le dichiarazioni dell'onorevole Bellachioma sono di una gravità inaudita e destano grande preoccupazione. Dire rivolto ai magistrati se toccate Salvini veniamo a prendervi a casa, questa era la dichiarazione proprio di Bellachioma, equivale, dice D'Alfonso, alle parole di minaccia. Chi tocca il Duce avrà piombo rivolte al magistrato Mauro del Giudice che mise sotto accusa i fascisti indiziati dell'omicidio Matteotti. Sul piano più strettamente giuridico, prosegue D'Alfonso, le parole di Bellachioma integrano, a mio avviso, il reato previsto dall'articolo 338 del Codice Penale, per il quale presenterò formale denuncia alla Procura della Repubblica. Si tratta infatti di una minaccia al corpo giudiziario per impedirne in tutto o in parte o perturbarne l'attività. L'ingresso della Lega nella giunta di Chieti non rappresenta un problema per il sindaco Umberto Di Primio che guarda al finale di consigliatura con fiducia. Lo ascoltiamo. Sindaco, la Lega è ufficialmente in giunta da qualche giorno, ci potrebbe essere anche qualche altro passaggio nel partito di Salvini. Cosa cambia per il fine mandato, per l'ultima parte della sua consigliatura? Non cambia molto, non cambia molto perché è il passaggio di un assessore che già è riscritto ad un altro partito oggi alla Lega. Devo dire che però la cosa non mi dispiace perché è evidente che a questo punto la nostra amministrazione assume tutto il carattere del centrodestra, quindi entra anche la Lega, avevamo già un consigliere comunale. Oggi mi aspetto ovviamente che la Lega sia di gran supporto all'amministrazione, di maggiore attenzione ai problemi dell'amministrazione e che resce il ruolo di forza di governo così come è giusto che sia. Però Forza Italia chiede delle linee chiare di fine mandato? Ma non è Forza Italia che le chiede, le chiede Forza Italia, le chiede il sindaco di Forza Forza Italia, le chiedono i cittadini, tutti chiediamo che ci sia una linea da seguire fino alla fine del nostro mandato ed è necessario che ci sia perché abbiamo necessità non soltanto di fissare quelli che sono gli obiettivi principali ma anche di rendere quegli obiettivi realmente realizzabili ed è per questo che ho chiesto alla maggioranza, ho chiesto ai capigruppo di maggioranza, a tutti coloro che in maggioranza hanno a cuore le sorti delle città e quindi hanno a cuore anche il programma che noi abbiamo offerto alla città, ho chiesto loro di scrivere insieme a me e soprattutto che lo scrivano loro, visto che io non sarò ricandidabile come sindaco, che scrivano loro il percorso che deve portarci alle nuove elezioni, fare cose buone per i cittadini, fare cose buone per la città, in qualche modo fare in modo che tutto ciò che noi abbiamo in questi otto anni costruito non venga disperso nell'ultimo periodo. Cambiamo argomento adesso perché a seguito delle numerose segnalazioni apparse sui media locali e nazionali sulle condizioni generali dei viadotti delle autostrade a 24 e a 25 gestite da strada dei parchi, è stato presentato un esposto sulla manutenzione ordinaria dall'Associazione Nuovo Senso Civico. L'esposto consegnato alle nuove procure della Repubblica interessate dal tracciato, al MIT, alle Regioni e alla Corte dei Conti. Nell'esposto dopo aver ricordato che le segnalazioni apparse sulla stampa denotano fenomeni di disfacimento del copriferro, grave ossidazione dei ferri nonché di stacco del calcestruzzo, si chiede di verificare lo stato delle opere d'arte, se siano stati effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria in capo al concessionario. Tutto ciò tenendo conto che il numero di controlli effettuato dal MIT è a nostro avviso, dice Nuovo Senso Civico, molto basso. Addirittura nel 2013 non vi furono controlli. L'esposto continua chiedendo se un eventuale difetto di manutenzione ordinaria abbia in qualche modo originato una condizione attuale di insicurezza e infine se l'eventuale difetto di manutenzione ordinaria abbia in qualche modo generato un ammaloramento tale da rendere necessari lavori di tipo straordinario. Il 26 agosto invece ci sarà la giornata di mobilitazione nazionale degli stabilimenti balneari per protestare contro gli effetti della legge Bolkenstein e invitati alla mobilitazione parlamentari e amministratori abruzzesi. Vediamo. Noi scendiamo in piazza nel senso che abbiamo detto che il 26 agosto deve essere nel tempo una giornata nazionale per far presente all'opinione pubblica, ai nostri bagnanti che noi siamo per loro una risorsa, non siamo i loro affittuari, proprietari degli ombrelloni e dei servizi, noi siamo quelle persone che hanno messo in piedi un'impresa e il nostro patrimonio sono i clienti, immaginare una spiaggia senza i nostri clienti, senza le strutture balneari sarebbe veramente un danno all'immagine, un danno al turismo balneare. Noi ci auguriamo, così come hanno detto durante le campagne elettorali e Centinaio lo ha ribadito la scorsa settimana, che i balneari hanno bisogno di una proroga di almeno 30 anni. Per la verità lo ha detto Scaiola, l'assessore in Liguria, queste cose, noi possiamo anche ragionare, metterci intorno a un tavolo, per esempio un restyling di tutta la costa abruzzese che sono 650 lidi, beneficiando di questo prolungamento della concessione, applicando la 296, la legge dello Stato che consente di avere attraverso gli investimenti un congruo periodo di tempo per ammortizzare gli investimenti e questo darebbe una grande mano, siamo fermi con gli investimenti dal 2011. La richiesta è rivolta a tutto il largo parlamentare e attualmente è rivolta ai partiti che sono i più rappresentativi sul territorio. È chiaro che noi oggi abbiamo fatto una conferenza stampa invitando tutti i segretari regionali delle forze politiche a livello nazionale e ci auguriamo che l'appello di domenica possa essere cibito su tutto il territorio. Rimaniamo a Pescara perché martedì prossimo consiglio comunale straordinario sull'emergenza nel reparto di geriatria dell'ospedale civile. Sono 14 consiglieri comunali che hanno firmato la richiesta. Abbiamo fatto la commissione si è recata presso il reparto di geriatria proprio perché è sollecitata anche da alcuni familiari e soprattutto perché con il fatto che è venuta a conoscenza di questa intervista a livello nazionale. La situazione che abbiamo trovato è quella che in qualche maniera purtroppo ci immaginavamo e come ci dicevano. Un reparto che fondamentalmente ha una potenzialità di 52 posti aveva in quel momento circa una quindicina di pazienti in più oltretutto collocate lungo le corsie. Il problema per quanto ciò loro già hanno detto riguarda un po' è a livello organizzativo che spero, ripeto, attraverso il prossimo consiglio possa essere in qualche maniera, possa trovare soluzione. è quella che attualmente quando un paziente arriva dal pronto soccorso se supera il 75esimo anno d'età viene direttamente rilegato in geriatria. Quindi questa cosa porta soprattutto nel periodo estivo una maggiore frequenza delle persone anziane verso questo reparto. Noi abbiamo invitato il direttore generale della ASRA, abbiamo invitato il primario del pronto soccorso, abbiamo invitato il primario della geriatria con la caposala della geriatria che lì c'è anche un problema in ordine al personale, abbiamo invitato i responsabili dei punti di scafa e popoli e poi abbiamo avvisato anche tutte le organizzazioni sindacali presenti all'interno del nostro comio pescaresa. Chi pensava che io mollassi l'osso ha proprio sbagliato. Chi mi conosce sa che non faccio solo ed esclusivamente conferenze stampa per prendermi qualche titolo in prima pagina in qualche quotidiano locale, in qualche televisione locale o nazionale. Io non mollo l'osso, non lo mollerò fino a quando non sarà risolto il problema. Quindi fatti ma non chiacchiere. Martedì ne vedremo delle belle. Spostiamo all'Aquila, adesso ha acceso il tripodè con il fuoco del morrone dopo il lungo cammino e l'avvio ufficiale è questo della perdonanza. La pioggia ha solo rallentato il programma di una manifestazione incentrata sulla famiglia e sulla riconciliazione. Vediamo. Dichiaro aperta la 724esima perdonanza celestiniana. La pioggia ha solo rallentato il viaggio del fuoco del morrone per arrivare sino all'Aquila davanti alla basilica di Colle Maggio. Una famiglia aquilana, la famiglia Iacobucci, ha portato il fuoco nell'ultimo tratto per l'accensione del tripode. Il sindaco ha dichiarato così aperta la 724esima perdonanza celestiniana. Sì, è un nuovo corso della perdonanza che recupera o ha la volontà di recuperare un po' la sua originalità e la sua originarietà. È una perdonanza un po' più sobria, lo dimostra anche il fatto che qui sul prato di Colle Maggio non si sta tutti in piedi come un tempo ma si sta seduti quasi fino a mezzo prato. C'è una riscoperta del tema dei quarti, quindi la storia della fondazione della città dell'Aquila e la sua organizzazione istituzionale e c'è un programma anche di eventi più sobrio, però di sicura attrattiva e c'è la riscoperta di quella che un tempo si chiamava l'isola sonante, che si chiamerà l'Aquila suona e in cui si metteranno in gioco un po' tutti gli artisti della città dell'Aquila. Insomma, siamo convinti che nonostante questo esordio con la pioggia, comunque sarà una bella edizione, la presenza di tanta gente pur con le temperature non proprio estive, insomma, lo sta a dimostrare. Un messaggio di pace e di amore, quello lanciato dal bellissimo Teatro del Perdono, un palco non invasivo, con la basilica in primo piano, la famiglia e la riconciliazione come temi portanti. La famiglia è il nucleo centrale nella comunità ecclesiale ma anche in quella civile. È la prima scuola cristiana e al tempo stesso è la prima palestra dove una persona impara a esercitare l'arte di amare, quindi la famiglia va custodita e va sostenuta. Restiamo a parlare di perdonanza celestiniana, emozioni in musica per il concerto inaugurale, grandi artisti sul palco, li vediamo. Un concerto straordinario, quello di apertura della perdonanza celestiniana con grandi artisti sul palco e temi caratteristici della perdonanza, ore intense che hanno emozionato il pubblico aquilano che nonostante la pioggia caduta prima e il fresco poi hanno voluto essere presenti nel grande prato antistante la Basilica. E così i colori delle luci che battevano sul rosone di Colle Maggio, la forza canora degli artisti e delle orchestre e dei cori sul palco diretti magistralmente dal maestro Leonardo De Amicis, colui che ha riuscito a portare qualità e soprattutto spettacoli cuciti apposta per l'Aquila. Flavio Insin ha portato dei monologhi sul palco intervallati dalla musica, dai canti, anche dalla tradizione aquilana con Giori Tonno, artista abruzzese. E' una grandissima emozione, credo che la serata soprattutto dica una cosa, che la musica è come la vita, viene bene solo se si fa tutti insieme e in questo periodo così complicato di questo nostro mondo e di questo nostro paese abbiamo fondamentalmente bisogno di perdonarci, di perdonare, di essere perdonati e di stare insieme. Lorena Bianchetti sul palco ha chiamato ad uno di uno gli artisti, ognuno con la sua proposta musicale per la città. Un amico dell'Aquila è Red Canziano che dopo il suo tour che ha fatto il sold out con l'istituzione sinfonica ha giurato amore eterno a questa città. Sul palco ha magistralmente interpretato uno dei grandissimi successi intramontabili dei puoi uomini soli. Gli artisti in questi giorni stanno vivendo l'Aquila, tra questi c'è anche Ted Nealey, il Gesù originale di Jesus Christ Superstar, anche lui ha omaggiato l'Aquila. E' stato un tripudio di emozioni, di canzoni, di talenti aquilani con voci straordinarie, con la chiusura affilata ad un gigante della musica, il maestro Riccardo Cucciante, originario di Rocca di Mezzo, che ha voluto omaggiare il pubblico con un Ave Maria da brividi. Davanti alla Basilica di Colle Maggio uno spettacolo immenso, apprezzato, emozionante, che mai più sarà solo per una notte all'Aquila tutto questo. Cambiamo argomento adesso, andiamo a Lanciano, ancora conseguenze per la voragine, nel negozio del centro, 12 bancarelle non potranno esporre nell'ambito della fiera di Sant'Egidio. Vediamo. Sono appena 12 su un totale di 194 le bancarelle che non troveranno posto per la fiera di Sant'Egidio lungo Corso Trento e Trieste a Lanciano. I calcoli definitivi sono stati elaborati dall'Ufficio del Settore Commercio del Comune. L'assessore Francesca Caporale illustra le decisioni assunte a seguito della chiusura di una corsia a causa del crollo di un pavimento nel piano interrato di un locale commerciale. Nel frattempo gli operai comunali sono al lavoro per allestire gli spazi. Quello che è successo nei giorni scorsi ovviamente è un evento che non potevamo prevedere. Il transennamento e quindi l'area che è stata delimitata nel momento in cui sono interminuti i vigili del fuoco, ad oggi dagli uffici ci si fanno sapere che rimarrà quella, non essendoci state ulteriori perizie da parte dei tecnici che hanno ricevuto l'incarico. Quindi per il momento quel tratto di corso è interessato dalla presenza di 32 bancarelle. La volontà era quella di mantenerne il più possibile lì in zona per andare a minimizzare al massimo quelli che potrebbero essere gli impatti economici sugli operatori e quindi sugli ambulanti. Stiamo facendo le ultime verifiche, quindi con le ultime misurazioni. Al momento pensiamo di riuscire a mantenere i due terzi nell'area, quindi circa 20 bancarelle, mantenerle lì, che ci aiuteranno anche a fare il presidio del transennamento stesso, quindi a impedire alle persone di avvicinarsi lì alle transenne e poter transitare tranquillamente nell'area che è rimasta aperta anche alle auto. Ad oggi dovrebbero essere quelle spostate unicamente 12 bancarelle e stiamo valutando qual è l'area più commerciale in cui poterle spostare. C'è anche l'ipotesi dei viali? L'ipotesi dei viali è semplicemente perché in continuità con il termine della fiera stessa, noi all'altezza dell'intersezione tra Corso Trento e Trieste e i viali ci sono le ultime bancarelle, noi lì sarebbe proseguire lì e quindi non andare a spezzare quel flusso di persone, perché come si sa la qualità commerciale del posizionamento di una bancarella è proprio quello del momento in cui le persone transitano lì davanti e quindi creare dei luoghi che possono essere distaccati dal resto del mercato comunque può dare un danno economico agli operatori che puntano tanto sulla festa di Sant'Egidio perché abbiamo per fortuna tante presenze ed è un evento che richiama non soltanto i cittadini di Lanciano ma da tutti i rintorni. È stato inaugurato ieri a Trasacco in provincia dell'Aquila in via Martiri di Nasseria il nuovo centro di raccolta rifiuti realizzato dalla società di gestione dell'igiene urbana Tecneco, il centro potrà essere utilizzato da tutti gli utenti dei comuni di Trasacco, Colle Longo e Villa Valle Longa. Sindaco, oggi viene inaugurato il nuovo centro di raccolta comunale per la raccolta differenziata, un servizio in più per i comuni, ovviamente per il territorio e la popolazione. Riguarda strettamente anche il comune di Colle Longo. Sì, siamo contentissimi di questo nuovo servizio come dici tu, un servizio aggiuntivo che dopo un po' di anni abbiamo potuto garantire ai cittadini. Speriamo quindi che i nostri residenti capiscano che anziché lasciare questi rifiuti sui terreni abbandonati possano conferirli qui. Ringrazio Tecneco, il comune di Trasacco in particolare perché ha seguito in prima battuta tutto questo iter procedurale che non è stato semplice. Il territorio comunale ospitante è proprio quello di Trasacco. Vediamo se è un comune che dà il buon esempio. A quanto si attesta la raccolta differenziata a livello di percentuali? La raccolta differenziata si attesta intorno al 67%. Non è il massimo ma cerchiamo di raggiungerlo, questo massimo. Il centro di raccolta è un traguardo importante, è un traguardo che parte da un progetto unito tra Sacco con Le Longue e Villa, quindi tutta la Valle Longa, che ha riunito le forze per dare una maggiore offerta di civiltà a tutto il territorio. E apriamo adesso la pagina dello sport e partiamo con la Serie B che inizia oggi con l'anticipo Brescia-Perugia ma che ovviamente domani vedrà in campo il Pescara e sarà un Pescara quasi al completo, quello che debutterà in campionato alle 18 allo Zini di Cremona. Tutti a disposizione del tecnico Beppi Pilon ad eccezione dell'infortunato Palazzi e dello squalificato Canutè. Tre i dubbi alimentati da Pilon nella conferenza prepartita di questa mattina. Balzano o Elisalde a sinistra, in avanti Cocco o Monachello al centro del tridente, Mancuso o Marras in avanti con i primi che sono favoriti. Certo di un posto nel tridente è Antonucci. A di là della formazione l'allenatore di Preganziol ha parlato della condizione della squadra, degli obiettivi e dell'avversario di domani. Lo ascoltiamo. Abbiamo lavorato per essere pronti per questa partita, per l'inizio del campionato e siamo pronti per questo inizio del campionato. Nel senso che sia fisicamente che tatticamente che mentalmente siamo pronti a questa partita, perciò tutto il lavoro è stato svolto in funzione di questo. Non abbiamo guardato prima certe cose, i carichi sono stati fatti forti in quel periodo lì. Adesso siamo pronti, li abbiamo abbassati i carichi e siamo più brillanti, perciò la squadra è pronta sia fisicamente che mentalmente. Io credo che solo il campo dirà quello che potremo essere, solo attraverso le prestazioni, attraverso il lavoro, attraverso i risultati soprattutto. Quando si parte così è sempre difficile dire dove si può arrivare, cosa si può fare, perché il campionato è molto difficile, fra l'altro ridotto anche 19 squadre è ancora più difficile, perciò è difficile dire dove potremo arrivare. Una cosa è certa, quella che ho sempre detto, in tutti i campi, in casa, fuori casa, dove andremo ce la giocheremo con tutti. È una squadra che è stata costruita per arrivare nelle prime posizioni, perché basta guardare i nomi, tutti esperienza, grande esperienza di squadra, sanno quello che vogliono sul campo, conoscono perfettamente la categoria, l'allenatore conosce benissimo la categoria, è molto di esperienza, è molto bravo fra l'altro, perciò è una squadra costruita per vincere. Anche loro magari non dicono niente, ma se tu guardi quello che hanno fatto, dici questa squadra è stata costruita per vincere. Poi da qui a vincere ne passa, come noi diciamo, vediamo cosa succede e anche loro penso vorranno vedere le verifiche sul campo. Io sono soddisfatto del mercato, l'ho detto, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo fatto delle linee, le abbiamo percorse giuste, abbiamo su ogni ruolo delle alternative, perciò io sono contento dei ragazzi che ho a disposizione e mi fido molto di loro. Che saremo la mina vagante? Sì, mi romperemo le balle a tutti? Sì, questo è poco ma è sicuro. Che morderemo tutti? Questo è sicuro perché sennò li aspetto qua. Quello è sicuro. Poi le partite si possono vincere, perdere, gli episodi ti fanno cambiare una partita, però l'atteggiamento deve essere quello, devi avere il furore addosso. Se no, non si va a nessun posto se non sei così, non si va a nessun posto. Gli occhi della ditta. Sì, non volevo dirlo, ma c'è devi avere quegli occhi là, sì. E dunque parte domani il campionato del Pescara, allora domani saremo ovviamente in onda con diretta stadio per seguire la gara dell'Ozzini di Cremona che dunque apre questo campionato di Serie B per la formazione biancazzurra. Scendiamo adesso di categoria perché termina 2-0 per il Teramo l'amichevole dei Marsi di ieri sera contro l'Avezzano che si presentava davanti al proprio pubblico. Per i biancorossi assegno Altobelli e Di Renzo, mentre sul fronte mercato, vicino il centrocampista delle giovanili della Roma Cristian D'Urso. Per quanto riguarda il portiere invece, concreta ma difficile l'idea Michele Di Gregorio dell'Inter. Per quanto riguarda l'Avezzano invece, novità nel modulo proposto da Federico Giampaolo, bianco-verdi che hanno fatto le prove generali del 3-4-3 che tuttavia non ha convinto il presidente marsicano Gianni Paris. Il Teramo vince 2-0 l'amichevole dei Marsi di Avezzano nella serata degli ex Lewandowski e Persia in cui la squadra bianco-verde si presenta davanti ai propri tifosi. Una vittoria firmata Altobelli e Di Renzo per i biancorossi ancora molto attivi sul mercato con il centrocampista Cristian D'Urso della Roma vicinissimo e che nelle prossime ore potrebbe firmare per il diavolo e col portiere, il nerazzurro di Gregorio in pole, ancora da mettere sotto contratto. Un tempo per squadra quello che ha provato Giovanni Zichella, una squadra che al netto degli slittamenti continui del campionato sembra entrare piano piano in forma, anche se per due terzi difesa e centrocampo sembra più avanti, mentre in attacco qualche meccanismo è ancora da sistemare. Questo perché Di Renzo si mostra in palla, mentre Fratangelo, Piccioni, Zecca e Bacio Terracino paiono ancora in difficoltà, non tanto dal punto di vista della preparazione fisica quanto della collocazione in un 4-3 ancora da scoprire totalmente. Chi invece destra ogni volta in pressione è Simone Vitale, l'ex Pescara a un sinistro fattato che al 35esimo propizia l'1-0 firmato dalla testata di Altobelli, un altro di coloro che sembravano con la valigia in mano e che invece può ritagliarsi uno spazio importante. Il riesordio di Ventola invece conferma che l'esterno destro è il colpo fondamentale per gli equilibri del diavolo. Nella ripresa in cui Zichella cambia tutti, meno che Di Renzo e Lewandowski è proprio l'attaccante al sessantesimo a fissare il punteggio sul 2-0 finale, raccogliendo una corta respinta di Fanti su cross di Mantini. In difficoltà invece Ranieri in mediana, così come Zecca, che nella ripresa non fa meglio di un K che gioca la prima frazione, ma è praticamente invisibile. Sul fronte Avezzano invece la rivoluzione copernicana ha le fattezze del 3-4-3, con cui Giampaolo decide di giocare la gara del De Marsi, un modulo che sembra poter ribaltare le gerarchie in casa bianco-verde, ma che pare ancora un po' indigesto in fase di proposizione di gioco, specie se ad interpretarlo non sono tanto Pellecchia ad Alessandro Deramo, quanto Federico Cerone, che spostato sulla corsia di destra prova qualche sortita ma senza rendersi realmente pericoloso. E così Dos Santos, che pure si dà un grande affare, resta spesso isolato in uno schieramento, questo sì, ancora da perfezionare e che sembra non aver convinto il presidente Gianni Paris. Giampaolo però è tecnico preparato e la scorsa stagione lo ha dimostrato, è in grado di dare forza ed equilibrio alle idee che ha anche in poco tempo. Peraltro di tempo ce n'è in abbondanza, il campionato parte solo a metà settembre e gli esperimenti per Avezzano e Teramo sono ancora possibili. La squadra, specialmente nel primo tempo avevamo tanti giovani dentro, tantissimi giovani, mi sono piaciuti, abbiamo fatto una buona gara, al secondo tempo un po' più di contenimento ma va bene, insomma abbiamo giocato, devo fare complimenti a Avezzano, mi sembra che singolarmente sia una squadra importante per affrontare un buon campionato di Serie D. Nel secondo tempo qualche cambiamento, almeno all'inizio, i due esterni più le due punte, che ti è sembrato? Sì, abbiamo provato con un centrocampo a due, per provare a giocare con Spighi e Ranieri e giocare con quattro attaccanti. Mi sono lasciato un po' prendere da queste grandi squadre europee che giocano con questo 4-2-3-1, però ho provato tra il primo secondo tempo a farlo senza averlo mai provato in allenamento, quindi non potevo pretendere più di tanto, però ho avuto delle buone indicazioni. Durante il campionato, in partita in corsa, non voglio dare nessun aiuto agli avversari, però non è detto che ci mettiamo come abbiamo fatto finito il campionato scorso con la Leggiana, con 4-2-3-1, è una cosa che si può provare. Oggi sicuramente il mister ha provato schemi diversi, io vedo questa squadra come l'anno scorso con il 4-3-2-1. Preferisco questo modulo per le qualità, le caratteristiche dei singoli, quello è il modulo dell'Avezzano Calcio, il mister sicuramente fa bene a provare altre soluzioni, però se torniamo al modulo vecchio, secondo me torniamo anche a dare un input, un imprinting importante alla stagione che sta per cominciare. Modulo vecchio, certezze anche vecchie e consolidate in sintesi, lei vuole dire? Sì, infatti senza utilizzare frasi fatte preferisco tornare al modulo della stagione passata perché i giocatori più o meno sono gli stessi, si conoscono, hanno sincronismi adeguati e credo che il mister sarà in grado di valutare attentamente quello che dice il Presidente. Il problema della giustizia sportiva e delle regole del calcio è ancora un miscuglio da decifrare e quindi il ritardo e quindi la decisione di mettere tutte queste nobili decadute nei vari gironi, mi ha preso l'esempio del Bari, ci fa capire che appunto devono cercare di far comandare a chi il comando già ce l'ha. Questo era il nostro ultimo servizio, io vi ricordo questa sera alle ore 21 l'ampia sintesi proprio dell'amichevole di ieri sera del Dei Marsi tra Avezzano e Teramo, telecronaca di Andrea Costantini. Per il momento io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.